Cosa ti aspetti da questo corso? Una porta che si apre. Una porta che si apre verso il mondo del lavoro e quindi anche verso l'autonomia? Certamente, altro che. Cosa avete imparato? Abbiamo imparato bene perché ci ha spiegato molto bene. Poi toccherà a noi fare i passi successivi. Cosa speri quindi da qua in avanti? La chiave di casa è l'autonomia. Bello, veramente, un contratto della salute.